prendiamo la terra vedete si fa con le mani è oramai le mani si sono con parte di terra però è bello è bella ecco stai lì che vedi facciamo bene e quello lo taglieranno tra 200 anni poi rifacciamo ancora con le bolle il terreno e vedete che sembra quasi che questo eccolo ci siamo ok pensate di farcela